Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi saremo qui per parlare di Cuneo-Propiacenza, finita 20-0 per il Cuneo. Però il Propiacenza ha giocato in 7, spiegheremo anche il perché. Detto questo, iniziamo subito il video dopo la sigla. Allora, in Serie C, il Propiacenza è successo un casino, perché la società del Propiacenza non ha voluto pagare i propri giocatori e allora, come è giusto che sia, almeno per me, i giocatori, anche grazie alla Lega, se ne sono andati via. E con tutti i giocatori che sono rimasti, che erano solo 7 ed erano meno di 19 anni, li hanno fatti giocare. E' da premiare quello che hanno potuto fare, perché hanno dato tutto, però ovviamente si parte in 7. Poi è la squadra più scarsa del campionato di Serie C del Girone A, infatti è ultima con 8 punti. Non ha più giocatori, ne ha solo 7, che li ha fatti giocare. E' normale pure che perdi 20-0. Il primo gol del Cune è stato fatto dopo 3 minuti, poi dopo 5, intanto qua mi saranno arrivare le notifiche, perché ha segnato una ingolana nell'Inter, quindi ora sta vincendo 2-1 contro la Sampdoria. Vabbè, questo non ci interessa molto per quello che stiamo dicendo. Comunque, il Cune è segnato dopo 3 minuti, dopo 5, vabbè, non mi ricordo bene i minuti, fatto sta che c'è un giocatore che ha fatto 2 giocatori che hanno fatto 5 gol, e quindi siamo a 10, ce ne sono uno che ha fatto 4 gol, e ce ne sono uno che ha fatto doppietta, e altri 4 che hanno fatto un singolo gol, arrivando così al 20-0. Secondo me quella partita non si doveva giocare, anche se l'avrebbe persa comunque a tavolino il Piacenza, perché aveva troppo pochi giocatori, e la Lega gli dovrebbe dare qualche giocatore giovane, nuovo, dello staff primaverile, anche perché non può continuare così il Piacenza, il campionato, anche perché ormai ha fallito, il campionato lo sta continuando ovviamente come giusto che sia, però ormai la squadra Piacenza ha fallito. Sì, ma poi non solo del pro Piacenza, ma questa serie B, questa serie C, la serie D, la promozione, l'eccellenza, non si può più vedere così che tutti gli anni non c'è una squadra che non fallita, ha fallito anche il Matera, è stata esclusa dal campionato, poi per una testata va bene che gli ha dato i punti di penalizzazione, anche se per me sono troppi, ma addirittura escluderla dal campionato, no, non si può più vedere, ogni volta in serie C falliscono delle squadre, come in serie B e in serie D, e per non parlare della promozione e dell'eccellenza, che non è da meno. Però poi io da bambino non posso fare niente, ditemi il vostro parere, secondo voi, se si doveva giocare questa partita o no, oppure ditemi se ho ragione io, nel fatto che tutti gli anni falliscono delle squadre, dalla serie B in giù. Detto questo, noi ci salutiamo. Ciao!